Dal Vangelo secondo Marco verso la campagna Anche essi ritornarono ad annunciarlo agli altri ma non credettero neppure a loro Alla fine apparve anche agli undici mentre erano a tavola e li rimproverò per la loro incredulità e durezza di cuore perché non avevano creduto a quelli che lo avevano visto risorto e disse loro Andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo a ogni creatura La fede o è missionaria o non è fede La fede non è una cosa soltanto per me perché io cresca con la fede La fede va trasmessa va offerta soprattutto con la testimonianza Andate che la gente veda come vivete La fede è sociale è per tutti Andate in tutto il mondo proclamate il Vangelo ad ogni creatura E questo non vuol dire fare proselitismo come se io fosse una squadra di calcio che fa proselitismo o fosse una società di beneficenza non la fede è niente proselitismo E far vedere la rivelazione perché lo Spirito Santo possa agire nella gente con la testimonianza è come la testimonio col servizio servizio è modo di vivere se io dico che sono cristiano e vivo come un pagano non va questo non convince nessuno se io dico che sono cristiano e vivo da cristiano questo attira è la testimonianza una volta un studente universitario in Polonia mi ha domandato ma nell'università io ho tanti compagni atei cosa devo dirgli per convincerli niente caro niente l'ultima cosa che tu devi fare è dirle qualcosa incomincia a vivere e loro vedendo la tua testimonianza ti domandaranno ma perché tu vivi così la fede va trasmessa ma non per convincere per offrire un tesoro